Uno dei problemi più seri con cui abbiamo a che fare quando parliamo di simulazione rimane il problema della coscienza cioè nel senso che noi dobbiamo dire quali sono le ragioni che ci permettono di dire che una coscienza può essere simulata attraverso un calcolo, attraverso una computazione quando abbiamo a che fare con la computazione abbiamo a che fare con l'informazione quando abbiamo a che fare con l'informazione abbiamo a che fare con una particolare fisica che è quella fisica con cui noi abbiamo a che fare in questa realtà che può anche essere una simulazione ma come abbiamo stabilito per via puramente logica noi dobbiamo trattarla come se fosse una realtà per noi che ci possiamo anche ritenere essere dentro una simulazione questo mondo esterno che ci circonda, che esiste anche fosse una simulazione dobbiamo trattarlo come una realtà e quindi avremo due categorie di problemi da trattare quello che riguarda la coscienza riuscire in qualche modo a dare delle giustificazioni e delle ragioni attraverso cui si possa dire sì, ci possono essere c'è la possibilità di produrre coscienza attraverso macchine computanti e quindi vedere quali sono le ragioni per dire che questo è possibile e se ci sono altre ragioni per dire che questo non è possibile e poi ci sono questioni di carattere etico da prendere in considerazione oggi prendo in considerazione due esperimenti filosofici due esperimenti mentali uno è il famoso esperimento di Frank Jackson che riguarda Mary e l'altro Mary è una scienziata che si suppone chiusa in un suo laboratorio e ora lo spero e l'altro riguarda invece un esperimento mentale che ha caratteristiche caratteristiche particolari del tutto etiche ora comincio con la descrizione dell'esperimento mentale che ha a che fare con l'etica etica, simulazione, coscienza, eccetera che ora vi descrivo molto semplice perché questo sia da stimolo a comprendere a cercare, a sforzarci di comprendere fin dove è possibile quanto sia importante per noi in tutto quanto questo discorso riuscire veramente a capire che cosa può significare parlare di coscienza simulata supponete che l'esperimento consiste in questo è già stato presentato da altri è ripresentato da altri ancora è un esperimento classico che riguarda appunto l'etica supponete di avere un famoso supponete che voi siete entrati e entrerete in un laboratorio vi metteranno gli spinotti nella testa ed entrerete nella condizione in cui vi verrà simulato un mondo in mente e voi dovrete prendere delle decisioni di vita e di morte di giustizia in questo mondo simulato in questo caso voi sapete che siete dentro una simulazione apporterò alcune modifiche alla presentazione di questo esperimento mentale per come esso era stato fatto in origine quindi la prima parte di questo esperimento consiste in questo entrate in una cabina vi mettono gli spinotti in testa e ne so vi ritrovate ad essere come un giudice che deve giudicare di omicidi di crimini efferati da parte di persone eccetera eccetera no pensate tutte le situazioni più paradossali ingiuste che ne so pensate di entrare in una camera e ora vi verrà simulato in testa la guerra in Ucraina voi siete nella testa di Zelensky ok siete nella posizione se non nella testa siete nella posizione di Zelensky dovete decidere se mandare al massacro 100.000 uomini oppure no mettetevi in situazione di questo tipo oppure siete come era re Salomone nella Bibbia che doveva decidere a chiedere il figlio lo affettiamo non lo affettiamo e che ne so sarete una delle due madri ok situazioni di questo tipo qua però entrate avrete proprio come dire tutte le sensazioni vi verranno simulate nel vostro cervello per così dire tutte le sensazioni affinché voi dagli input sensoriali di movimento da tutto ciò che riguarda il mondo e la realtà simulate che vi sta intorno voi non potete distinguere se quella è o non è una realtà ok voi lo sapete però perché siete entrati in questa cabina diciamo fantascientifica e quindi voi lo sapete lo sapete epistemicamente per così dire ok ma niente di quella simulazione vi fa per così dire ricordare che siete dentro una simulazione quindi toccate gli oggetti tutto quello che per così dire tutto quello che ha a che fare con la fisica di quell'ambiente con le persone voi avete di fronte delle persone queste persone vi parlano e e nel parlare supponete di stare lì magari qualche giorno tutti vi trattano che ne so se siete nell'antica Roma come se fosse un magistrato vi riconoscete ad avere per esempio delle conoscenze che non sapevate di avere cioè vi muovete bene in quel mondo siete ben inseriti però vi rimane la certezza che voi siete dentro una simulazione per quanto questa simulazione potrà per voi essere coinvolgente vi rimane comunque questa certezza incrollabile voi siete dentro questa voi siete dentro una simulazione anche se quelle persone vi parlano anche se voi avete a che fare diciamo con queste coscienze voi partite dal presupposto che queste sono delle coscienze simulate avete l'epistemica certezza che siete dentro una simulazione che queste coscienze sono delle coscienze simulate e quindi dovrete prendere delle decisioni siccome sapete che si tratta di una simulazione sapete pure che tutto quel mondo anche se questo mondo è realtà cioè nel senso che tutte le sensazioni che voi ricevete vi ripeto tutto quello che voi che accade in questo mondo è un mondo completo coerente totale una realtà totale tranne che la vostra certezza incrollabile di incrollabile che voi siete dentro una simulazione ora vi vengono quindi proposti i casi più estremi di 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 che possono riguardare appunto paradossi della giustizia paradossi etici ok siete in quel mondo in quel mondo per esempio è d'uso tagliare le mani a che ruba ne faccio un esempio quindi voi vi ritrovate ad avere che ne so un bambino di 12 anni che ha rubato delle mele e tutti coloro che vi stanno intorno vi dicono beh tu devi tagliarle le mani se lo sapete già la legge dice che dovete tagliarle le mani voi vi dovete attenere alla legge ma sapete pure che siete dentro una simulazione attenzione bene ora sapete che siete dentro una simulazione cioè sapete che poi finito quel tempo della simulazione ritornerete a casa continuate a fare la vostra vita normale tutto ciò che c'è intorno per esempio c'è una legge c'è un codice che dice tagliare le mani a chi ruba le mele quindi voi siete un giudice vi ritrovate davanti in una situazione in cui c'è un bambino c'è un bambino 12 anni ha rubato le mele e voi siete il magistrato che dovete applicare la legge quindi dovete disporre il taglio delle mani di questo bambino attenzione questo bambino a voi si presenta davanti voi potete avvicinarvi toccarlo chiedergli cosa ha fatto quello che non ha fatto è del tutto a voi per come appare a voi è del tutto cosciente non avete modo di distinguerlo da un bambino reale voi sapete però con certezza incrollabile vi ripeto siete certi non avete dubbi che siete dentro una simulazione disporrete per tagliare le mani al bambino questa è la domanda allora le posizioni potrebbero essere diverse se voi cosa fate voi potete decidere di non far tagliare le mani al bambino ok oppure potete decidere di sì tagliamo le mani allora se voi decidete di non far tagliare le mani al bambino e lo decidete per un motivo giusto quale dovrebbe essere questo motivo ora riflettiamo un attimo su questo se voi decidete di fargli tagliare le mani come dice la legge lo decidete voi che avete la certezza incrollabile di essere dentro una simulazione lo decidete per un motivo ora andiamo a vedere qual è questo motivo allora supponiamo che voi decidete di far tagliare le mani al bambino perché potete deciderlo perché dite tanto si tratta di una simulazione non ha alcuna importanza mi porteranno via dalla cabina la cabina è tutto finito attenzione voi assisterete all'esecuzione quindi assisterete al taglio delle mani del bambino assisterete al dolore del bambino questo fa parte delle condizioni di questo esperimento mentale assisterete al dolore assisterete al pianto della mamma che ne so alla rabbia dei parenti a tutto quello che potrebbe succedere oppure alla rassegnazione alla soddisfazione dei forcaioli che sempre ci sono in ogni in ogni situazione che si sentiranno soddisfatti perché le mani al bambino sono state tagliate oppure potete decidere di non far tagliare le mani al bambino pur sapendo e avendo la certezza la certezza che siete dentro una simulazione ora il fatto che voi siete certi di essere dentro una simulazione vi dà una maggiore o una minore libertà di scelta la domanda che vi pongo apparentemente diciamo da una prima analisi voi avete la possibilità di fare una scelta che apparentemente non ha conseguenze quella di far tagliare le mani al bambino però almeno una conseguenza ce l'ha pur supponendo che voi siete certi che tutte le persone simulate anche se simulano coscienza sono una simulazione voi voi chi è nell'esperimento proverete quello che proverete durante l'esecuzione della sentenza l'unica cosa che vi può dare per così dire respiro nel vedere che voi avete deciso per applicazione della legge siete legalmente al posto dentro la simulazione anche applicazione della legge però la vostra voi siete stati costretti diciamo perché fanno parte delle regole del gioco ad assistere al taglio delle mani del bambino quindi una conseguenza c'è la conseguenza che voi assisterete al dolore che voi stessi avete provocato perché avevate la possibilità di non far tagliare le mani al bambino ora potete anche decidere di non fargli tagliare le mani a questo bambino e quindi proverete diciamo avrete la sensazione che ne so della gioia di questo bambino perché gli sono state risparmiate le mani della gioia del genitore o dei genitori pensate alla madre e anche all'incazzatura di colui che ha subito il furto gli hanno preso le mele e dice caspita non è stata applicata la legge in ogni caso su di voi ci saranno delle conseguenze in ogni caso voi subirete delle conseguenze dalla decisione che voi avete preso anche soltanto a livello puramente coscienziale non subirete delle conseguenze durante la vostra vita però a livello coscienziale voi subirete delle conseguenze vi sentirete in un modo se decidete per fargli tagliare le mani vi sentirete in un altro se deciderete di non fargli tagliare le mani a questo bambino ora ci si può chiedere se voi che avete perso quella decisione avete una responsabilità etica nei confronti del mondo che è stato simulato e qui può essere messo in dubbio il fatto che quel mondo che in quel mondo ci siano delle reali coscienze si può anche dire quelli erano degli zombie filosofici e quindi non avevano una reale coscienza il bambino non stava realmente soffrendo e questo è un conto in quel caso è difficile dare una responsabilità e dare chiedere una responsabilità etica a chi prende quella decisione sembra però ciò che viene trascurato in questo caso è la coscienza del giudicante voi che state giudicando nel senso che le vostre stesse decisioni hanno un riferimento ad un riflesso su voi stessi che siete coscienti quindi hanno una conseguenza etica su chi sta prendendo quella decisione e questa non può essere trascurata l'etica in questo caso il problema etico in questo caso è un problema che ritorna per così dire su chi prende quella stessa decisione cioè la conseguenza etica è una conseguenza che poi si riflette sull'unico ipotizzando che tutto il resto non ha coscienza sull'unica persona che in quel caso ha coscienza che è il giudicante quindi vi è una responsabilità etica se non nei confronti del mondo simulato il giudicante ha una responsabilità etica nei propri stessi confronti perché la propria azione avrà una conseguenza su lui stesso anche se quel mondo è simulato questo vedete questo ci fa capire e poi quindi naturalmente c'è l'altra faccia della medaglia nel senso che si può veramente essere sicuri che quelle coscienze siano semplicemente simulate si può veramente essere semplicemente sicuri che quelle coscienze siano degli zombie i cosiddetti zombie filosofici quindi che su di loro non ha alcuna non ha alcun diciamo non ha alcun effetto in realtà non sentono niente e quindi si può essere sicuri allora esaminiamo dal punto di vista semplicemente razionale proprio diciamo dei pesi di quello che sta succedendo nel caso in cui quelle coscienze sono non simulate quindi voglio dire sono simulate ma sono delle vere e proprie coscienze allora la decisione del giudicante riguarda riguarda delle vere e proprie coscienze e quindi una vera e propria decisione etica tenuto conto che non soltanto lui è cosciente ma anche il bambino che prova dolore nel nel momento in cui gli vengono tagliate le mani e nel momento in cui la mamma vede questa situazione oppure il godimento dei forcaioli che sono contenti perché vengono tagliate le mani al bambino nel caso in cui è possibile quindi simulare una coscienza l'azione è realmente etica anche se ci ritroviamo in un mondo simulato perché è questo e questo toglie molti dubbi su molte questioni etica non è che riguarda il mio portapenna o la penna riguarda le coscienze ok se è possibile simulare coscienze questi problemi etici riguardano le coscienze e quindi in ogni caso in ogni caso il giudicante ha a che fare con delle coscienze ok anche se sono coscienze che durano un giorno sempre coscienze sono capite se durano anche soltanto il tempo della simulazione sono delle coscienze e quindi è una decisione etica nel caso in cui non si tratta di coscienze nel senso che tutti gli attori intorno sono sono degli attori sono degli zombie filosofici e l'unico non zombie filosofico è il giudicante beh anche in questo caso si tratta di un'azione di un giudizio di una formulazione di un problema etico capite perché esso riguarda appunto il giudicante ora quindi da questo esperimento mentale un po' modificato rispetto a quello che era stato presentato da altri diverse volte possiamo dire che anche se il giudicante sa di essere dentro una simulazione il problema etico nasce dalla possibilità o meno di costruire simulare delle coscienze ma anche nel caso in cui all'interno della simulazione tutto ciò che appare come persona umana ma questo può essere esteso agli animali eccetera è semplicemente uno zombie filosofico il giudicante stesso rimane cosciente rimane una vera coscienza all'interno della simulazione e quindi le sue scelte hanno una conseguenza su se stesso quindi anche in quel caso abbiamo problemi etici conclusione anche se siamo dentro una simulazione quindi usciamo un attimo fuori dall'esperimento mentale possiamo concludere che anche se siamo all'interno della simulazione anche se sappiamo di essere all'interno di una simulazione rimane chiaro il fatto che ciò che noi compiamo costituisce un'azione etica anche indipendentemente dal fatto che ciò con cui noi le persone con cui noi abbiamo a che fare siano o meno degli zombie filosofici nel caso estremo avremo a che fare con noi stessi e in quanto cocenti e cocenti di essere cocenti non siamo zombie filosofici in ogni caso abbiamo a che fare con noi stessi quindi rimane rimane anche in questo caso un problema etico d'altronde non è che l'intuizione normale del senso comune ce lo fa capire ce lo fa capire perché proprio perché noi normalmente partiamo tutti quanti questi discorsi che sono discorsi per far capire che la questione etica è una questione di coscienza ok è una questione che riguarda coscienze umane è una questione che riguarda appunto la capacità di provare vedere gustare sentire che sono capacità umane e non soltanto umane ma riguardano appunto la coscienza ora vi ripeto questa tutto quanto questo discorso noi lo applichiamo normalmente anche chi non fa mai filosofia simula simula mondi simula situazioni nelle proprie fantasie ed è dalla simulazione di questi mondi e di queste situazioni a partire dalla simulazione di mondi e situazioni che poi vengono prese delle decisioni che hanno anche un carattere etico e perché vengono simulati questi mondi e queste situazioni e le persone e le risposte delle persone e quello che può accadere e quello che non può accadere vengono simulati proprio perché siamo stati per così dire ci ritroviamo ad esserci evoluti in questi termini e prendiamo sul serio le nostre simulazioni proprio perché in ogni caso sono da prendere sul serio capite guardiamo per esempio i dieci comandamenti non rubare ok uno dei dieci comandamenti che dice non rubare se voi avete non rubare vi vedete già nella simulazione ok vi ritrovate nella condizione per esempio pensate di rubare ok vi ritrovate simulate il furto simulate un furto e state pensando già al furto però poi simulate per esempio la coscienza della persona che ha subito il furto seguitemi bene quello che sto cercando di dirvi ritrovare non avete soldi pure diciamo una cosa più semplice un po' più un po' meno da ladri siete in giro vi accorgete che ad un vecchietto cade il portafoglio a terra vi avvicinate l'avete visto pensate di prenderlo chiaro? entrate nella situazione perché è così che noi siamo fatti simuliamo cade il portafoglio a terra lui non se n'è accorto magari ha la borsa della spesa in mano sta andando a casa mi cade il portafoglio a terra voi vi avvicinate vedete ci sono dei soldi soldi liquidi è un vecchietto non c'è ancora le carte di credito 500 euro ecco di prima chietto magari qualcuno pensa boh mi prendo questi soldi e me li porto a casa che mi servono mentre cammina simula che ne so nella recondita sua nel suo recondito inconscio i giorni della prima comunione gli ricordano il comandamento di Dio non rubare e qualcosa comincia a lavorare dentro di lui pensa a questi 500 euro pensa che sta andando a casa pensa che ne ha bisogno magari lui ma pensa pure al vecchietto sta simulando come potrebbe rimanerci male il vecchietto accorgendosi che è andando a casa che non ha più il portafoglio magari non è nemmeno un vecchietto che sta tanto bene vive di pensione e non ha tanti soldi e cominciano i rimorsi di coscienza ma sì gli porto sto portafoglio gli allora riporto sto portafoglio cosa è accaduto state simulando un mondo state simulando delle coscienze e mentre lo simulate e mentre ci pensate vi state mettendo nei panni di chi ha coscienza ma attenzione bene quel vecchietto che voi avete simulato ha o non ha coscienza ma indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia coscienza il vecchietto che voi avete simulato è un'azione etica quella che voi farete restituendogli il portafoglio capite indipendentemente dal è bastata la simulazione che quel vecchietto sia una coscienza capite qual è il punto supponete che c'era un robot che ha perso dei soldi già in un certo senso questo qui non ha coscienza questi soldi sono un po' di tutti boh quasi quasi me li prendo no dite perché in fondo faccio male un po' a tutti un po' a nessuno non ha importanza e già la vostra etica cambia già la vostra la vostra azione la conseguenza della vostra azione cambierà capite questo che cosa dimostra che cosa sto cercando di mostrarvi sto cercando di mostrarvi che senza la simulazione della coscienza altrui è quasi impossibile avere un'etica parlare di etica mettersi a discutere di etica e questo ancora una volta che cosa può voler dire che cosa può voler dire e cosa può voler dire vuol dire che cosa che se voi escludete la coscienza se voi eliminate l'esistenza della coscienza avete eliminato qualunque problema etico questo voglio dire e anche se la coscienza fosse un problema di simulazione in ogni caso sarebbe coscienza capite cosa accade ai generali quando decidono di fare o non fare la guerra e cosa accade pure a chi decide di dire e dice andiamo a fare la guerra non stanno simulando la coscienza di chi muore in guerra non simulano questa coscienza come si dice non si mettono nei panni di chi sta facendo la guerra no come dice il buon senso comune non stanno non hanno o non vogliono avere questa capacità e invece cosa stanno simulando stanno simulando la vittoria la gloria stanno simulando il loro aver ragione ma non stanno sicuramente simulando la coscienza di chi soffre o di chi muore durante una guerra quindi attenzione perché quanto vi dico riguardo al mondo simulato sembrano delle così dire delle fantasie ma non lo sono perché ragionare in termini di simulazioni dal punto di vista etico fa invece scendere con i piedi per terra su quella che è la nostra realtà di umani in cui i problemi etici sono all'ordine del giorno questa è la prima questione e questo è uno dei tanti esperimenti mentali che diciamo su cui rifletteremo e che hanno appunto carattere etico ve ne accenno soltanto uno però non lo affronto subito perché voglio andare all'esperimento mentale un esperimento mentale classico è quello di Frank Jackson e tra un attimo ne discutiamo però ve ne accenno un altro che ha a che fare con questioni etiche di religione se c'è una simulazione esiste un simulatore se esiste il simulatore voglio dire il colui che ha progettato la simulazione che può essere un'intelligenza molto superiore a tutte le coscienze che sono simulate dentro la simulazione e possiamo ritenere che colui che ha progettato una simulazione ne abbia progettate altre mille eccetera pensateci bene però in ogni caso rispetto ad una simulazione il programmatore lo chiamiamo così scusate questi termini ma comunque il programmatore rispetto alla simulazione è onnipotente onnisciente ciò non toglie che anche lui debba avere un'etica ok ma chi è quindi questo grande programmatore è quello che noi abbiamo sempre detto nella nostra edizione indicato con un semplice nome Dio in qualche modo se noi siamo dentro una simulazione per noi che siamo dentro questa simulazione necessariamente esiste un Dio quindi c'è un punto c'è un punto da ritenere se è vero che noi siamo dentro una simulazione è vero che esiste un Dio per questa simulazione è vero che esiste per così dire un'intelligenza può essere un'intelligenza di qualsiasi tipo e genere attenzione al di là di quello che noi possiamo immaginare come intelligenza biologica ed artificiale un'intelligenza talmente elevata che ha progettato questa nostra realtà costruito e simulato tutto quanto quello che voi vedete ecco questa entità se noi siamo dentro una simulazione esiste e l'abbiamo sempre denominata come Dio se volete potete anche vedere quanto vi questo questa questa particolare dimostra particolarissima dimostrazione dell'esistenza di una nostra divinità di Dio dell'esistenza di Dio o degli dei un'equip di programmatori questa dimostrazione dell'esistenza di Dio fatta attraverso l'ipotesi che noi si sia dentro una simulazione computerizzata è uno dei motivi che per cui alcuni filosofi rifiutano rifiutano l'ipotesi di trovarsi dentro una simulazione perché si ritengono atei siccome io sono ateo e non accetto l'esistenza di Dio ma se sono dentro una simulazione in qualche modo devo accettare l'esistenza di una divinità onnisciente e onnipotente rispetto alla simulazione che non corrisponderebbe ad altro che a Dio secondo la tradizione che c'è dentro la stessa simulazione bene siccome io sono ateo non voglio non credo in Dio e quindi non credo che mi trovo dentro una simulazione noi invece questa diciamo questa strana dimostrazione dell'esistenza di Dio rispetto alla nostra simulazione la prendiamo in seria considerazione ma non non l'analizzerò ora l'analizzeremo l'analizzeremo in altri in altri video quindi molta molta attenzione l'ipotesi della simulazione mette in gioco molte altre ipotesi l'ipotesi della simulazione vi ripeto mette in gioco molte altre ipotesi che sembravano essere scartate dagli sviluppi dagli sviluppi della scienza tutto quello che volete diciamo da quello che è il mainstream del pensiero attuale rimette in gioco per esempio esistenza o meno di Dio ma da questo punto di vista vi accorgerete che io ho già trattato dimostrazioni che riguardano un'esistenza di Dio ora però ne vedremo altre che tengono appunto conto dell'ipotesi che noi si sia dentro una simulazione chiuso questa prima parte dell'argomento ne apro un'altra che riguarda l'esperimento di Frank Jackson perché è collegato a quello di prima perché è collegato alla possibilità o meno di simulare coscienze di costruire coscienze attenzione bene alle parole che uso ho detto simulare ho detto costruire quando parlo di simulare vi parlo di simulazione computerizzata di pensare ad una simulazione che viene per così dire attivata attraverso attività informazionali causali dico computerizzate in questi termini non dovete immaginare che c'è davvero qualcuno davanti ad un piccolo computer pc che sta che sta battendo i tasti e si intende questo per simulazione piano piano vi introdurrò ad una visione un pochettino più ampia del concetto di computazione e vi introduco a questo concetto pensando alla computazione come ad una categoria di attività che ha a che fare con l'informazione e con la causa quindi con qualcosa di astratto come l'informazione è qualcosa di molto fisico come quello che normalmente si dice causi ma dal punto di vista generale lo affronteremo ancora un'altra volta ora vi ripeto voglio presentarvi quindi la possibilità che noi abbiamo di simulare coscienza di costruire coscienza e deve passare attraverso alcune nostre riflessioni che riguardano la famosa domanda che cos'è la coscienza vi ho già detto che forse riusciremo si potrebbe riuscire a simulare coscienza senza avere capito bene che cos'è la coscienza però oggi oggi vi voglio presentare l'esperimento di esperimento mentale di frank jackson e alcune mie riflessioni riguardo all'esperimento di frank jackson che mi portano a rivalutare una posizione particolare una posizione di minoranza sulla coscienza che è quella di Vallortigara ed altri io ho fatto già qualche video su Vallortigara però devo dire che devo ritornare sui miei passi perché la posizione di Vallortigara può per così dire essere considerata perché la posizione di Vallortigara può essere considerata come una posizione non riduzionista allora da una mia prima lettura del libro di Vallortigara storia della mosca o la testa storta o qualcosa del genere una mia pregiudiziale posizione sul pensiero di Vallortigara come pensiero riduzionista mi aveva impedito invece di separare la visione riduzionista di Vallortigara dal contenuto della sua teoria della coscienza come attività che può essere spiegata a partire almeno una coscienza primaria a partire semplicemente dal sensorio dalle connessioni di sensorio e motorio e quindi ritorno sui miei passi su ciò che avevo detto per quanto riguardava Vallortigara perché una mia pregiudiziale visione riduzionista del contenuto della teoria di Vallortigara mi ha fatto trascurare invece alcuni aspetti della sua teoria che escludono la necessità di una coscienza epistemica come condizione per avere coscienza vi introduco all'argomento a partire appunto dall'esperimento mentale di Frank Jackson allora Frank Jackson ci diceva supponete che ci sia una scienziata che è cresciuta in un laboratorio in cui non ci sono colori ci sono soltanto bianco e nero questa bambina cresciuta lì dentro non ha mai visto altri colori che il bianco ed il nero stop chiaro è è un esperimento mentale supponete che sia sempre stata abbia sempre chiuso gli occhi quando si faceva il bagnetto non ha i guanti neri e bianchi tutti i capelli ha la cuffia nera e bianca non ha visto altro che il bianco e il nero lavora all'interno di un laboratorio i suoi cibi gli vengono presentati soltanto con colori bianchi e neri eccetera eccetera non ha visto mai altri colori che il bianco e il nero fisicamente capite che è qualcosa proprio un esperimento mentale quasi impossibile una cosa del genere però pensiamo che sia così pensiamo che fosse così ok mettiamoci in questa condizione questa è una scienziata però una scienziata che ha studiato nel dettaglio e più di quanto si possa oggi sapere la fisiologia che riguarda l'occhio il cervello la distinzione di tutti i colori però lo ha soltanto studiato ok sa quindi quali sono le lunghezze d'onde di tutti i colori eccetera eccetera sa che cosa succede alla retina quando gli arriva un certo colore come fa ad elaborare quel colore sa anche come un certo come un certo colore gli procurerebbe una certa parola stiamo facendo proprio delle ipotesi fuori dal mondo capito cioè supponete che l'input del colore giallo comporta un input informativo a livello di retina che si traduce trasduce in un'informazione binaria 011 01 lei lo sa quindi quando questa informazione binaria viene decodificata dalla retina al cervello conosce tutti i percorsi che questa informazione farà nel cervello fino al sistema al proprio sistema di conoscenza che gli stimolerà la parola giallo poi questa parola giallo passerà al sistema motorio che corrisponde a tutto quello che succede nelle corde vocali e gli farà dire giallo ok capite qualcosa di fuori dal mondo cioè però però dobbiamo supporre che lei sappia tutto questo attenzione bene sappia tutto questo perché ve lo sto anticipando così nel dettaglio questo sapere questo il fatto che Mary sappia tutto perché vi sto anticipando dicendo tutto questo qual è la lettura che Dennett ha fatto dell'esperimento proposto da Frank Jackson la risposta di Dennett la trovate nel libro coscienza che cos'è comunque nell'esperimento diciamo come per come era stato proposto da Jackson appunto c'è questa scienziata questa non ha visto altro che il bianco e il nero però conosce tutto della fisiologia dei colori ok tutto della fisiologia dei colori un giorno gli viene presentata una banana gialla chiaro attenzione bene viene presentata una banana gialla ora quindi i suoi occhi possono per la prima volta nella vita vedere il giallo la domanda è apprenderà apprenderà qualcosa Meri apprenderà qualcosa Meri nel vedere il colore giallo della banana apprenderà qualcosa ora tutti siamo portati a dire beh Meri certo che apprenderà qualcosa non ha mai visto il colore giallo e per così dire ne ha sempre sentito parlare ma non ha mai provato la sensazione di vedere il colore giallo no siamo portati a rispondere in questi termini e quindi cosa succede nella nostra mente simuliamo simuliamo e simuliamo che cosa simuliamo per esempio il bambino che non ha mai visto il mare e la prima volta che viene al mare rimane a bocca aperta perché per quanto lui abbia per quanto abbia sentito parlare del mare noi diciamo beh un conto è sentirne parlare e un conto è vederlo il mare no e quindi il bambino rimane estasiato incantato forse impaurito dal mare dalla visione del mare l'input dell'informazione è tale che il bambino prova e apprende qualcosa che prima non sapeva ok apprende qualcosa che prima non sapeva apprende che cosa apprende cosa si prova vedere il mare non a sentire parlare del mare questa è una prima simulazione che noi facciamo ne possiamo fare tantissime altre un conto è parlare dell'amore e un conto è vivere l'amore e cose di questo genere qui però c'è un fatto e Dennett si preoccupa di precisarlo e di criticare questo tipo di risposta dicendo che il bambino non è come Mary la nostra scienziata perché il bambino non sa tutto del proprio cervello della propria fisiologia per quanto riguardava il mare perché se il bambino sapesse tutto avrebbe saputo qual era la propria reazione nel vedere il mare perché sapeva che quella particolare informazione nel caso del mare sarebbe stata 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 binaria la supponiamo binaria avrebbe avuto una una sua un suo percorso all'interno del cervello che avrebbe provocato magari sorpresa però questo era già saputo ok cioè la risposta di Dennett alla all'esperimento di Jackson è che Mary dal vedere la banana gialla non apprende alcunché tant'è che Dennett dice se gli scienziati gli presentano la banana blu beh Mary si accorge subito che la stanno prendendo in giro e glielo dice gli dice dice loro guardate che le banane sono gialle non blu voi credevate di prendermi in giro ma non mi prendete in giro cioè in poche parole il nostro Dennett ci dice che Mary non apprende nulla dal guardare non apprende alcunché dal vedere la banana gialla perché conosce Mary stessa tutte le proprie azioni ad ogni informazione che viene che viene che le viene data conosce tutte le informazioni che le vengono date conosce le proprie azioni ad ogni informazione che le viene data ora badate che questo discorso non è del tutto fuori dal mondo perché se voi realmente conoscete tutte le vostre reazioni a qualunque informazione che vi viene data voi non avete alcunché da apprendere però questo discorso che fa lo stesso Dennett gioca al nostro favore per quanto riguarda gli agenti epistemici non oniscendi quindi resistenza del mondo esterno cioè se quanto dice Dennett riguardo a Mary ha una sua base ha una sua base noi dobbiamo dire che appunto per supporre che Mary non abbia niente da apprendere da un'informazione che viene dall'esterno dobbiamo necessariamente supporre che Mary sia onnisciente e già onnisciente perché quello che voi noi abbiamo pensato riguardo ai colori lo potremmo mentalmente estendere ad ogni altra situazione ai colori alle sensazioni tattili visive uditive tutto quello che volete lo potrete estendere a tutto avrete voi una super Mary in questo caso no? avrete in questo caso una super Mary ma questa super Mary è appunto onnisciente non ha niente da imparare dal mondo esterno cioè questo stesso discorso è una congettura del fatto che l'esistenza del mondo esterno è dimostrata dal fatto che noi non siamo super Mary capite? noi non siamo agenti non omniscienti perché vi ripeto se Mary non assorbe alcune informazioni dal mondo esterno per Mary non esiste nemmeno un mondo esterno per super Mary non esisterebbe nemmeno il mondo esterno perché lei sarebbe onnisciente ora attenzione nello stesso tempo potremmo dire che Mary è cociente attenzione bene quindi estendiamo da Mary a super Mary super Mary per quanto siano le informazioni che arrivano queste informazioni non la penetrano perché lei già conosce tutto possiamo dire che Mary è cociente è cociente di cosa se già sa tutto quindi abbiamo in questo caso una un'altra per così dire argomentazione a favore del fatto che se non esistono agenti onniscienti allora esiste un mondo esterno la proposizione primole che vi avevo dimostrato in altri termini avevo argomentato in altri termini torna anche utilizzando l'esperimento di Frank Jackson però c'è ancora un'altra implicazione una è quella di dire attenzione bene la coscienza c'è cioè noi siamo coscienti proprio perché non siamo onniscienti ed acquisiamo informazioni ma vi è un'altra possibilità cioè vi è ancora una conseguenza di questo fatto se nel vedere la banana gialla Mary non acquisisce alcune informazioni in più rispetto a quelle che aveva allora possiamo anche ammettere che lo ammettiamo non possiamo anche ammettere che Mary non abbia provato la sensazione del giallo cercherò ancora di essere più il fatto che venga inviato a Mary Mary vede sta banana gialla blu quello che è il fatto che Mary veda la banana gialla non aggiunge informazione a quello che già Mary sa e su questo possiamo essere d'accordo ma attenzione bene la domanda è il fatto che Mary veda la banana gialla provoca a Mary un'esperienza del giallo attenzione bene è una domanda diversa il fatto che Mary vede la banana gialla provoca a Mary l'esperienza del giallo noi possiamo rispondere che sì provoca a Mary l'esperienza del giallo ma questa esperienza del giallo non aggiunge conoscenza a Mary questa è la conclusione del discorso di Dennett Dennett dice però attenzione no non provoca alcuna esperienza del giallo perché se provocasse un'esperienza del giallo a Mary questa il vedere la banana gialla se a Mary provocasse l'esperienza del giallo questa esperienza del giallo non può essere utilizzato come informazione da Mary attenzione bene noi data la fenomenologia dei fenomeni coscienziali dobbiamo quindi supporre che Mary esce dalla stanza gli viene mostrata la banana gialla l'esperienza del giallo Mary la prova chiaro prova l'esperienza del giallo soffermiamoci un attimo su questo punto Mary quindi ha un'esperienza è cosciente di avere un'esperienza questa coscienza però non aggiunge alcunché alla conoscenza di Mary non aggiunge alcunché alla conoscenza di Mary quindi da questa esperienza Mary non apprende alcunché perché non apprende alcunché perché sa già tutto chiaro questo è in sintonia e in armonia diciamo d'accordo con quanto dice Dennett ma l'esperienza del giallo che ha provato Mary quindi se l'ha provato cosa vuol dire se noi estendiamo l'esperimento ad una super Mary che già sa tutto non soltanto quindi ciò che riguarda il colore ma tutto quello che può pervenire ai suoi sensi avremo quindi una super Mary che già conosce tutte le proprie reazioni già sa pure le parole che dirà quando gli arrivano delle informazioni esperienziali però attenzione bene continua ad avere esperienze ok una super Mary che assorbe informazioni che ha l'esperienza cociente perché noi vediamo sta penna e abbiamo l'esperienza della penna chiaro anche se l'ho vista 50 volte la vedrò domani e avrò di nuovo l'esperienza della penna anche se la conosco benissimo questa penna io continuo ad avere esperienza di questa penna scendiamo un po' con i piedi per terra attenzione bene ora questo che cosa significa significa che quello che noi diciamo essere coscienza a questo livello qui coscienza primaria quella coscienza che si manifesta quando noi diciamo abbiamo l'esperienza di bere il caffè l'esperienza di vedere la penna l'esperienza di di vedere sta macchinetta di toccarla ok questa coscienza che si manifesta nelle esperienze sensoriali scusate se uso questi termini proprio fin troppo semplificati questa coscienza qui continua ad avercela anche Mary che è onnisciente che conosce tutto attenzione quindi questo ci fa pensare che la coscienza non riguarda quello che noi possiamo pensare essere un sistema epistemico capite la coscienza non riguarda la conoscenza la coscienza è qualcosa di più fondamentale di più basilare che dal punto di vista fisiologico riguarda il senso motorio questo qui è il punto al limite può riguardare una qualche connessione particolare del senso motorio ma deve necessariamente riguardare sia a partire da questi esperimenti che sono soltanto esperimenti mentali e poi vedere se poi tutto questo ha un suo corrispettivo scientifico il senso motorio attenzione bene ora riguarda il senso motorio allora cioè la coscienza può comparire quindi quella che noi chiamiamo coscienza primaria coscienza che si manifesta già nell'esperienza sensoriale compare anche in quegli esseri viventi in quegli organismi viventi che non sono fornite di tutto questo popò di roba migliaia di circuiti neuronali eccetera eccetera capite ecco perché probabilmente la ritroviamo così esplicitamente anche manifestata nel corvo un cervello piccolino così anche se il suo cervello non è organizzato come quello nostro qui quindi il punto è questo ed è su questa diciamo ed è a questo tipo di teorie che fa riferimento appunto Vallortigara che andrò a rivedere da questo punto di vista perché l'argomento che io stesso svolto su Frank Jackson aiutato da quello che dice Dennett mi fa pensare che l'esperienza cosciente è indipendente del tutto da quel sistema complesso che possiamo dire sistema epistemico legato a quello che noi conosciamo delle cose quindi è qualcosa di legato semplicemente al sensore al motorio o molto vicino ad un collegamento che riguarda il sensore del motorio non è così non deve essere quindi necessaria tutta questa popò di roba per parlare di coscienza anche qui l'unica e quindi questo ci fa pensare che per parlare e simulare la coscienza può anche essere sufficiente limitarsi a sistemi molto semplici che però interessano i sistemi sensori motori con l'aggiunta di qualche piccola cosa è difficile andare a capire qual è questa piccola cosa e qual è questo piccolo meccanismo piccolo grande meccanismo vi ripeto andrò a rivedere e cercherò di leggere in maniera non pregiudizievole non non pregiudicante di nuovo il libro di Pallortigara per essere più preciso con voi e andare a vedere più nel dettaglio cosa dice Pallortigara riguardo alla sua visione di che cosa possa essere la coscienza già avevo visto e già avevo commentato ciò che non mi convince di questa visione di Pallortigara ma andrò a ristudiare e se necessario andrò a vedere anche i lavori scientifici e gli articoli che ha scritto Pallortigara riguardo a questo argomento perché all'epoca non mi convince all'epoca non mi convince perché se voi considerate la vostra posizione nel sogno REM cioè che cosa accade nel sogno REM nel sogno REM voi non potete né muovervi né ricevere sensazioni dall'esterno se non piccole cose ma insignificanti è come se una parte diciamo delle vostre attività cerebrali inibiscono la possibilità che voi avete di compiere dei movimenti vengono inibite queste possibilità eccetto i movimenti oculari ecco perché si chiama fase REM eccetto qualche piccolo movimento di qualche dito ma cose da poco e vi viene naturalmente inibita la possibilità di ricevere sensazioni dall'esterno ciò nonostante voi state sognando ciò nonostante voi in quella condizione fate bene attenzione in quella condizione potete essere cocenti e in quella condizione potete essere cocenti di stare di stare sognando quindi è la condizione ottimale per entrare in un sogno lucido in questo caso come capite non ci sono non è attivo quel sistema che grossolanamente noi possiamo dire sistema senso motorio ciò nonostante voi avete coscienza ok da questo semplice argomento all'epoca qualche anno fa dissi beh non può essere vero non può essere vera questa visione di Vallortigara perché Vallortigara mi dice che la coscienza può nascere a partire dal sistema senso motorio ma se nel sogno noi abbiamo inibito il sistema senso motorio e possiamo essere coscienti vuol dire che la coscienza è indipendente da tutto ciò che Vallortigara dice sul senso motorio oggi perché riesco a modificare questa mia idea su quanto dice Vallortigara perché sono dell'idea che è appunto quel meccanismo senso motorio che c'è nella coscienza primaria a livello esperienziale di base quindi quel meccanismo per cui io posso dire provo qualcosa a vedere il giallo di questa roba qui quali e sono cosciente di questo fatto posso dirlo ma potrei essere cosciente anche senza avere la capacità di dirlo capite perché non sono fornito del sistema del sistema epistemico che mi dia questa capacità di dirlo ebbene questo sistema questo sistema elementare che vi ripeto è costituito dal sistema senso motorio e da qualche altra cosa che è quella da capire ma non difficilissimo chissà che cosa ebbene questa stessa può essere simulata ecco nell'attività cerebrale che è appunto attiva durante il sogno rem capite? capite qual è il punto? questa stessa quindi il circuito senso motorio diciamo x senso motorio può essere simulato nell'attività cerebrale responsabile del sogno rem ed è quel circuito lì che comunque apporta grazie alla simulazione a quello che noi diciamo coscienza nel sogno capite perché? mentre quindi prima avevo esclusa avevo escluso la possibilità che il meccanismo senso motorio potesse essere simulato nell'attività cerebrale che corrisponde all'attività del sogno che avviene durante il sogno rem ora invece vi dico può darsi che quella stessa attività venga simulata durante il sogno simulata dai circuiti neuronali che sono responsabili della fase rem del sogno capite? se quella viene simulata voi potete avere coscienza anche nel sogno anche se il senso motorio è inibito in quella fase è inibito sì ma esso viene simulato capite che le ricerche in questo caso possono anche essere ricerche che si si riflettono in una vera e propria ricerca scientifica perché vi dico che possono essere ricerche che si riflette in una vera e propria ricerca scientifica basta quindi trovare che dimostrare che quel circuito di base non è facile attenzione a parole è facile basta però basterebbe dimostrare che quel circuito di base si produce anche durante le fasi del sogno rem nell'attività cerebellare del sogno rem per dire beh è probabile che questo sia diciamo quella configurazione che vi è sia nel sogno sia in quei circuiti di base che sono il senso motorio e che sono responsabili del fatto che noi si sia coscenti discorso un pochettino complicato anche oggi ma in un certo senso è questo l'andazzo che prenderanno questi video grazie e al prossimo video grazie